Sei Xavi Sainz, hai 19 anni, solo 331 minuti di calcio giocati e 0 gol all'attivo. Gli unici tuoi numeri che attirano l'attenzione sono quelli extracampi. Un'eredità lasciata dall'essere sempre stato un bambino prodigio ed aver firmato per due dei più grandi club del mondo. Il tuo talento non è mai stato in dubbio, fin da quando all'età di 7 anni eri negli spot pubblicitari della NAR, mentre gli altri tuo coetanei cercavano pene nell'astruccio. Barcellona prima, PSG poi, non hanno mai veramente scommesso su di te. Sei stanco, stanco di giocare per club che ti vedono soltanto come un giocattolo su cui capitalizzare. Firmi per il PSV, solo in prestito, ma tanto basta. L'opportunità di una vita, il momento decisivo. Il resto è storia.